Episodio 25 di Angular, partiamo da dove eravamo arrivati la volta scorsa e oggi introduciamo il routing con i children, il routing quindi con i figli. Abbiamo impostato tutta sta cosa qua perché vogliamo dai contatti poter selezionare il contatto, ma non vogliamo andare direttamente nel profilo. Vogliamo che si apra qua a lato il profilo effettivo, così da non uscire mai dalla pagina, perché se dovessi fare Luca Rossi poi devo tornare indietro, Marco Verdi devo tornare indietro. Invece così io voglio schiacciare e far sì che compaia qua a lato, fate finta, bam Luca Rossi, bam Marco Verdi, bam Anna Neri, ok? Quindi tutto si andrà a svolgere dentro contatti, ma andremo a caricare un altro componente che è il singolo contatto, ok? Oppure contatto profilo, chiamatelo come volete, e andrà quindi qua dentro. Ora cominciamo a creare innanzitutto il nostro componente contatto singolo, quindi così andiamo qua sotto e facciamo ng generate component. componenti e poi slash contatto. Perfetto, l'abbiamo generato, eccolo qua, molto bene, quindi contatto, togliamo lo spec. E adesso quello che voglio fare qua in contatti, qua in contatti, è se c'è l'ng template voglio mandare a schermo non tanto questa cosa qua arcodata, ma il nostro contatto, quindi app, contatto così, molto bene, e anzi salviamo. Se vado a schiacciare su Luca Rossi vedete che contatto works. Ora voglio andare a rendere dinamica questa cosa qua, quindi voglio dire che il contatto in realtà deve contenere questa dicitura profilo con nome e cognome, ma in realtà anche più info. Quindi come andiamo a fare? Andiamo su contatto HTML, togliamo questa parte qua, inseriamo questo, ci da problemi perché non abbiamo la persona, ma già sappiamo inserirlo. Nel frattempo inseriamo cose di prova, quindi vorrei avere profilo di, quindi profilo di nome e cognome, profilo di nome e cognome, e poi avevamo anche il colore, giusto? Se andiamo su il nostro servizio dovremmo avere color, ok, quindi mettiamo colore preferito e mettiamo il colore, giusto per, potremmo avere la descrizione, l'immagine di copertina, eccetera, facciamo le cose con quello che abbiamo, profilo di nome e cognome, e poi qua sotto colore preferito, colore preferito, due punti blu, non blu così, ma blu così. Salviamo, salviamo qua, andiamo a vedere, a prescindere da dove clicco vedete profilo di nome e cognome, colore preferito blu, eccellente, quindi siamo andati ad inserire sempre in contatti questo sottocomponente, quindi abbiamo già un figlio di un figlio perché contatti è in app e contatto è in contatti che è in app. Adesso come facciamo a mandare a schermo queste cose qua, cioè vogliamo persona nome e persona cognome, allora ci mettiamo qua e a sto punto mettiamo anche persona punto colore dovrebbe essere, vediamo un attimo, color, scusatemi, persona color, tolgo questo e non abbiamo persona, io salvo, mi dà errore. Apriamo quindi il ts qua dietro e andiamo a creare una persona, andiamo a creare una persona che al momento è uguale a nome, due punti, luca, giusto per vedere che non è il solito rossi e poi anziché rossi mettiamo qwerty e poi come color andiamo a mettere red, perfetto qua non ho messo il cognome, scusatemi, quindi cognome, due punti, ok se vi faccio invio e vado su luca rossi vedete abbiamo qua luca qwerty red il problema che è uguale su tutti a noi questa cosa non piace. Quindi come facciamo a passare da contatti che siamo qua ad un children? Lo sapete, lo sapete perché l'abbiamo già fatto, ovvero prendiamo questo e facciamo che persona, persona che è questa qua, ok quindi possiamo anche togliere questo, mettiamolo come Eniast, giro, questa persona sarà uguale a ciò che ricevo in input, quindi questa persona, property binding è uguale a persona, ma che persona? Questa persona, vedete quindi questa dis persona, quella di contatti, questa qua. Ci manca un ultimo pezzo, dobbiamo andare qua a mettere, vi ricordate, at input così, l'errore è scomparso, qua l'errore è scomparso, qua l'errore è scomparso, quindi rivediamo il giro, swap contatto, abbiamo fatto il property binding di persona di contatto, se volete lo chiamiamo persona contatto, giusto per far vedere dove va, quindi persona contatto è questa, è quando avremmo persona contatto, ma adesso lo riporto allo stato naturale, questo persona invece è la persona dei contatti, ok? Quindi torniamo indietro, persona contatto non ci interessa, qua è tutto a posto e qua è tutto a posto, lo portiamo dentro con un input e se ne andiamo a vedere il risultato, andiamo su contatti, Luca Rossi, preferito blu, Marco Verdi, preferito red, Anna Neri, preferito yellow, andiamo a verificare, lo facciamo da qua, Luca Rossi, blu, Marco Verdi, red, Anna Neri, yellow, ok? Quindi tutto funziona come deve funzionare, l'unica cosa è che io non voglio continuare a switchare, voglio avere la mia lista a lato e voglio avere i profili dall'altra parte in modo, in modo abbastanza veloce, quindi come facciamo? Andiamo su app routing, eccolo qua, e questo qua lo togliamo un attimo perché dobbiamo andare su contatti ad inserire una nuova proprietà che si chiama children, vado qua e scrivo children, children è un array, quindi è un array di altri path, ve lo faccio vedere, così, quindi qua avevamo i path normali e qua possiamo avere un array di queste cose qua, io vado qua dentro a mettere non slash contatti perché non serve più, ma vado semplicemente a mettere id, quindi questo diventa un figlio, automaticamente prende slash contatti più id, scrivere questa cosa qua è uguale a scrivere questa cosa qua, però sullo stesso livello, senza avere il children, se avete già lavorato con node, con il routing di node, potrebbe sicuramente aiutarvi perché l'avevamo visto, e anche se avete fatto il mio corso sul sito dove facciamo gli API, abbiamo utilizzato una cosa simile, quindi vedete che essendo figlio automaticamente prende i contatti, però cosa vogliamo? Vogliamo che se andiamo su contatti slash id, non vogliamo prendere più contatti component, ma vogliamo contatto component, ok? Vediamo il risultato che non è completo, siamo qua, Luca Rossi, non sta succedendo niente, qua in alto cambia, vedete? Ma qua no, quindi cosa possiamo andare a fare? Manca un pezzo, quindi noi ci spostiamo, ma in realtà questo componente non viene caricato, il componente però dove dovrebbe essere caricato? A lato, qui, però abbiamo ciò che ci permette di mandarlo a schermo? No, perché se ci pensate questi qua, questi componenti vanno a schermo perché sono all'interno di un router outlet, ma è un router outlet che è all'interno di app component. Se io sono qua in contatti e siamo sempre in contatti e voglio mandare a schermo qua, ma io non ho un router outlet, come faccio? Non posso, quindi se vogliamo avere un children dobbiamo avere un router outlet, quindi andiamo e ci spostiamo su contatti component, questa parte qua non ci interessa più, quindi per ora la commentiamo, andiamo qua e mettiamo router outlet, quindi salvo. Possiamo togliere l'else che non ci serve, mettiamo qua le virgolette, se no dà errore e vediamo un po', abbiamo tac, 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 ci dà errore, perché non riesci a prendere il nome, quindi contatto component HTML ci dà problemi, perché? Perché avendo tolto questo, noi non passiamo più app contatto di persona a persona, giusto? Non lo facciamo più. E allora cosa possiamo fare? Beh, questa parte qua che avevamo in contatti, questa parte qua degli id, non ci serve più qua, perché noi il check non lo facciamo più qua, nonostante ci sia tutto sto check qua, vi faccio vedere, se io riabilito anche sta cosa qua e salvo, il check vedete che non me lo fa più, mi dà errore, ma non mi mostra più tutto il profilo, perché noi abbiamo messo l'id collegato a un altro componente, non è più legato a contatti, perciò non è più in grado di eseguire quell'else. Questo check quindi, togliamoci di qua, questo check dobbiamo perciò andarlo a fare altrove, quindi in ng on init, this persone, noi lo prendiamo sempre, perfetto, questa parte qua in realtà non ci interessa nemmeno più, this profile non ci interessa più, e cosa possiamo fare? Prendiamo tutta sta roba qua, andiamo in contatto, ricordatevi che poi dobbiamo prendere anche il activated route, andiamo quindi in contatto, in ng on init facciamo sto check, chiaramente ci dà problemi, quindi private route, due punti, activated route, virgola, adesso sto solo facendo la roba, quindi poi andiamo a rivedere tutto il giro del fumo, non preoccupatevi, e poi un bel private, servizio prova è uguale a servizio prova, service, molto bene, abbiamo tutto quello che ci serve, possiamo togliere l'input e possiamo dire che dis persona è esattamente sta roba qua, is profile non ci interessa più qui, quindi possiamo fare così, benissimo, salviamo, qua dovrebbe essere tutto in check, anzi sta roba qua non ci interessa, questa cosa qua non ci interessa più, il servizio prova ci interessa per prendere tutte le persone, mentre invece nel singolo componente prendiamo la singola persona, andiamo a vedere, aggiorniamo contatti, vado qua, premo profilo di Marco Verdi, tuttavia se continuo a schiacciare vedete che mi dà problemi, quindi è riuscito a caricare il profilo di Marco Verdi che vogliamo teoricamente fosse a lato, dobbiamo quindi risolvere questo problema, il motivo per cui non riesce a capire il cambiamento del parametro, vedete? Non capisce, prima quando eravamo sulla stessa pagina lo capiva, quindi router link andava e cambiava il parametro, ma adesso siamo sempre sullo stesso componente, semplicemente cambia solo il parametro, che cosa vuol dire? Che dobbiamo dire al componente qua sotto di aggiornarsi, quindi il componente qua sotto deve essere attento ai cambiamenti del parametro, perché vedete che io se cambio, aggiorno, scusatemi, io aggiorno, cambio la prima volta come abbiamo sempre fatto e me lo dà, ok? Perfetto, prima volta esattamente come quando siamo andati sul profilo normale, ma se io continuo a schiacciare non va più su slash contatti, cambia solo l'id, quindi non è più un altro route come avevamo prima, non è più un altro route qua sullo stesso livello, ma è sotto, quindi il contatto component deve essere attento al cambiamento di dd, perciò dobbiamo fare quello che si chiama il subscribe, come se facessimo la sottoscrizione a Netflix, dobbiamo dirgli guarda contatto component normale, togliamo l'html, per favore stai attento ai cambiamenti, va bene? Devi stare assolutamente attento, quindi noi possiamo andare qua e dobbiamo dirgli, innanzitutto ci conviene avere id, che è un number e di conseguenza associamo questo a this id, quindi this.id è uguale a questo, ci dà problemi per vari motivi, questo è 1, questo è 2 e questo è 3, l'ho appena convertito in numero facendo così, però mi dà il problema che potrebbe essere null e così tolgo, fare questo è la stessa cosa che fare questo, parse int praticamente, ok? È un modo un po' più figo, va bene? Voglio fare più figo, voglio fare il figo, perciò scrivo più, quindi stiamo prendendo il parametro che otteniamo, che è una stringa, ci assicuriamo che non sia null, va bene? Facciamo così, potete togliere anche ste regole da TypeScript nel caso, se vi faccio far tutta sta roba qua, sul controllo del null, per toglierlo ci basta andare qua sotto in tsconfig.json e mettere strict null checks, mettiamo false, se non vogliamo avere punti esclamativi ovunque, guardate qua, non ci dà più problemi, ok? Quindi questo id poi lo possiamo usare qua dentro, eccolo qua, perfetto, this id, e qua siamo in check, se io salvo, il primo risultato è sempre lo stesso, l'avete già visto, vediamo su contatti, Luca Rossi e compare, se vado avanti non succede niente, resta sempre Luca Rossi, però adesso abbiamo questa variabile che possiamo riutilizzare, quindi in realtà questo non ci serviva nemmeno, questo if non ci serviva nemmeno, avremmo semplicemente avuto questa cosa qua, togliamola un attimo e facciamo this.route.parammap.subscribe, quindi andiamo a iscriverci, andiamo a fare una bella funzione, qua dentro andiamo a fare una funzione anonima e cosa mettiamo dentro? Prendiamo params, quindi sono i parametri che è di tipo parammap e qua dentro vogliamo dire che this.id è uguale a sempre un numero, params.get è questo params, che sarebbe questo param, che sarebbe lo snapshot, ok? In questo caso non utilizziamo più lo snapshot perché ci sottoscriviamo, ho detto che lo snapshot è come uno screenshot, tuttavia sottoscrivendoci cambia costantemente, quindi andiamo a far così, togliamo questo id, abbiamo questa cosa qua, get id e adesso mettiamo che this persona, this servizio persona, this id. Salviamo, vediamo risultato, andiamo su contatti normali e vediamo Luca Rossi, Marco Verdi, Anna Neri, Leonardo Querti, Pannocchia Babbo. Completiamo velocemente però qua su contatti component, perché questa cosa qua io voglio metterla dentro un div unico, scusatemi, voglio fare un div così, ah scusate ho sbagliato, ok non è qua, ma è qua dentro, quindi tutti quelli che sono qua dentro devono essere un unico div, ok? Quindi facciamo tac, tac, possiamo far così e un'altra cosa che possiamo fare è un altro div così, questo perché allora era giusto, questo perché voglio avere display flex, diciamo così, perfetto, salviamo, andiamo a vedere il risultato, è esattamente come prima, ma stavolta se io vado qua e metto che app contatti display flex, perfetto, quindi abbiamo questa sorta di sidebar, ok? Quindi abbiamo il nostro componente che si vede a lato della lista contatti, quindi se io vado qua, Luca Rossi, Marco Verdi, Anna Neri, Leonardo Querti e Pannocchia Babbo, ok? Quindi adesso rivediamo un attimo il giro, intanto vi lascio la consegna delle cose, delle cose da fare, potete aggiungere più roba alle persone, se volete mettere le persone con più dati qua dentro potete farlo, se volete mettere angular material che abbiamo già importato nel progetto e volete fare le cose un po' più carine potete usare Luca Rossi, potete eventualmente delle immagini fittizie, abbiamo già imparato come si fa, mettete i link direttamente dai place order di internet nell'oggetto e li richiamate, mettete il pallino se è online e offline e fate qualcosa comunque di carino qua e qualcosa di carino qua, se volete mettere una descrizione o altro, questo è il lavoro che potreste fare, ma soprattutto adesso andiamo a vedere il giro del fumo, quindi ricapitoliamo, partiamo da contatti, allora contatti, abbiamo che in contatti, persona non ci serve nemmeno più, benissimo, in contatti noi prendiamo dis persone da servizio prova persone e nel nostro contatti component, lasciate perdere tutto sto giro qua, ma abbiamo qua dis persone, le mandiamo a schermo con scritto nome e cognome con il contatto che abbiamo visto prima, dopodiché gli mettiamo il router link e facciamo il link a contatti più liddi, come abbiamo sempre fatto. Questa volta però abbiamo messo il router outlet, come abbiamo già visto per app component, ovvero questo qua, vedete? Ogni volta che in un componente volete caricare un altro componente, ma in modo dinamico, quindi non sapete se avete quel componente o qualcos'altro, volete avere un router outlet, non solo, lo mettete quando avete dei child, quindi quando avete dei router child, cosa sono? Sono questi, in questo caso ne abbiamo contatti, perfetto, quindi contatti, siamo nella pagina contatti component, ma se poi cominciamo ad andare su contatti slash zero, carichiamo contatti component da una parte e qua dentro, quindi questo è contatti component, questo è tutto contatti component, ma qua dentro carichiamo cosa? Contatto component e contatto component, che cos'è? Andiamo a vedere, contatto component è semplicemente il contatto specifico con tutto il suo profilo, ok? Quindi qua cosa andiamo a fare? Ci andiamo a iscrivere, andiamo a sottoscrivere un abbonamento alla mappa di parametri del route, quindi questo qua in alto, quando cambia, qua è tornato normale perché abbiamo aggiornato, non l'ho fatto, l'avevo fatto qua su console, ok? Non preoccupatevi, potete farlo voi, niente di incredibile, quando cambia, non essendo più su un altro route, ma su un child route, dobbiamo per forza iscriverci, perché altrimenti non cambia quello che è di base lo snapshot del route, vi ricordate che avevamo lo snapshot? Lo snapshot è sempre fisso, è slash contatti, ma qua cambia in modo dinamico, quindi facciamo la sottoscrizione, quando facciamo la sottoscrizione andiamo semplicemente a riprendere il nostro parametro e lo riassegniamo, potevamo buttarlo qua dentro in realtà, semplicemente vogliamo fare le cose fatte bene, più che altro ben visibili, dopodiché diciamo dis persona, ovvero dis servizio get persona è uguale all'id, punto, e viene mandato a schermo. Questo è quanto, vi ho già detto cosa fare per migliorare l'applicazione, potete farlo perché ce l'avete nelle corde e niente, fatelo, sistematela, tutta la struttura è già, l'abbiamo già messa in place, l'abbiamo già messa a posto, adesso dovete solo andare a sistemare le piccole cose di stile, se volete aggiungere qualcos'altro, farla un po' più carina e basta, e noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao ciao!